Salve a tutti signori e benvenuti nel mio studio mobile, questa è la mia nuova postazione di lavoro, quindi da adesso in poi io lavorerò qui. Questo è il mio camper e non è più solo un camper, adesso è anche lo studio dove lavoro, dove registro gli audiolibri che carico su YouTube, anche se ultimamente sono un po' pochi, dove carico e dove registro anche quello che sono i lavori che faccio su commissione per fonti esterne e quello che porto su Telegram. Chi mi segue da un po' sa benissimo che io porto anche dei contenuti su Telegram. In questo video vado un po' a spiegare quello che è stato e quello che è il processo per trasformare un camper, scusate il casino ma ho deciso di fare questo video in estemporanea, in un vero studio mobile. Come vedete ho messo pannelli fonossorbenti in giro, quindi l'audio di per sé in un camper, io devo dire lo immaginavo ma ho avuto la conferma una volta che l'ho comprato, è molto migliore, è molto migliore rispetto a quello che può essere una stanza vuota, nel senso un camper vuoto è meglio di una stanza vuota. Questa è la mia opinione, almeno il mio camper l'ha accesi, è così. Qua c'è la mia cameretta, se non fosse riuscito a vederla, un bel casino. E niente, come faccio ad avere l'energia necessaria per poter registrare? Vabbè, ovviamente qua c'è il mio microfono, il mio Rode NT1-A quinta generazione, ho anche uno Shure SM7B classicissimo, ho il mio monitor che sta lì e ho ovviamente il computer che essendo enorme ho dovuto mettere qua purtroppo con dei supporti provvisori che vedete lì. Allora, come ho fatto? Ho messo delle batterie ad alimentazione solare, alimentate dai pannelli solari che ho sopra il camper, e intanto volevo farvi notare il mio outfit, che bellino. E ogni pannello va a alimentare quello che è una delle batterie. Ho le due batterie ausiliari del camper, ovviamente, avevo un inverter che trasformava l'energia delle due batterie ausiliari, ma l'ho rimosso perché non mi serve più e quindi l'ho rimosso in quanto non mi serve perché ho le mie batterie smart, che sono la EcoFlow e la EGRTEC. Sono due batterie d'accumulo all'alimentazione solare che hanno una 1kW e 80 se non sbaglio di accumulo, l'altra 1kW e 2. Questo è l'accumulo, discarico una cosa come 2000W una e 1500 l'altra. Ho comprato un'altra batteria per ampliarla e grazie a un amico che è un artigiano abbiamo fatto un sistema piuttosto complesso che ora vi faccio vedere. Allora, è un pochino scomodo, ma ve lo faccio vedere lo stesso, è sotto la seduta. Io qui ho le batterie, questa è la EcoFlow e questa è la EGRTEC. Una, anzi, tutte e due alimentate dal pannello solare, non riuscirete a vederlo, comunque dietro c'è un attacco apposito che porta all'alimentazione dei pannelli dedicati a tutte e due le batterie, quindi questo è il suo pannello, questo è il suo pannello e le batterie d'accumulo hanno il loro. Ovviamente i vari salvavita di necessità, io qui gestisco l'energia, quindi capisco, riesco a impostare se metterla dall'esterno, dall'interno cioè dall'esterno intendo dire dalla rete per esempio di un campeggio, oppure dalla rete interna, cioè quella delle mie batterie di accumulo. Devo dire che per ora non mi sono trovato quasi mai in difficoltà, anche se ho avuto qualche problematica legata agli apparecchi quando sono in stand-by, quindi ho capito a mia disgrazia che anche gli apparecchi in stand-by, insomma, consumano e mi scaricano del tutto quella che è la batteria. Ora, perché ho fatto questa scelta? Beh, banalmente perché lavorare in fabbrica non mi soddisfaceva più e il mio lavoro aveva iniziato a dare abbastanza frutti quindi lavoro con gli audiolibri, aveva iniziato a darmi abbastanza lavoro da poter sopravvivere quindi in questo momento mi dà uno stipendio, banalmente. L'altra scelta è che a me piace viaggiare, come a tantissime altre persone quindi blocco subito magari il flusso di pensiero del tipo a tutti piace viaggiare, sì a tutti piace viaggiare ma non è facile farlo soprattutto se non hai mamma e papà che pagano per ogni cosa quindi proprio qui volevo arrivare adesso un po' di persone saranno già che pensano che io sono stato finanziato da chissà quale potere forte ma la verità è che il mio principale finanziatore sono i miei ascoltatori quindi le persone che mi sostengono e mi hanno sempre sostenuto prima su YouTube adesso anche su Telegram quindi io non smetterò mai di ringraziarli e non so, veramente non ho parole per ringraziarli e senza di loro veramente non sarei mai riuscito a fare nulla in assoluto quindi i miei mamma e papà sono i miei finanziatori che sono anche i miei clienti e sono anche i miei datori di lavoro poi ovviamente ho i miei clienti, ho il mio lavoro quindi io vado in giro e purtroppo mi devo anche fermare non sono sempre spiaggiato da qualche parte a prendere il sole lavoro anche nonostante non faccio le mie 8 ore di lavoro in fabbrica questo per dire ragazzi se avete un obiettivo se credete in voi stessi e avete dei sogni provate a fare le cose lanciatevi quando ho lasciato il mio lavoro era un lavoro come ho detto anche in un altro video da più di 2000 euro al mese era il lavoro che molti delle persone che conosco avrebbero sempre desiderato a tempo indeterminato un lavoro sicuro eppure non mi dava la soddisfazione giusta come non dà la giusta soddisfazione a tantissime persone e per me questa non era vita quindi a costo di rischiare sto ancora rischiando perché sono partito da una settimana ho fatto un paio di lavori sto ancora rischiando sto usando i soldi che ho da parte che ho messo da parte con il duro lavoro ma se una cosa la volete davvero fare fatela, prendete la decisione è molto meglio fare la scelta sbagliata che non fare nessuna decisione questa almeno è la mia filosofia e la sarà sempre poi potrei a un certo punto fallire potrei dire non riesco più a starci dietro con le spese e non riesco più a fare i miei viaggi e quindi devo fermarmi a lavorare beh tornerò a fare la vita che facevo prima in ogni caso ho la mamma ho il papà ho il mutuo ho i bambini si può fare tutto bisogna trovare la soluzione su misura per voi vado a raggiungere per esempio adesso un amico che è alle Canarie arriverò alle Canarie questo è il mio primo obiettivo in cui stabilirmi e lui è andato là con un bambino di un anno di un anno e mezzo in realtà comunque un bambino molto piccolo e i suoi due cani quindi si può fare tutto ma tornando a noi se avete domande e perplessità su come io lavoro anzi se avete anche bisogno del mio lavoro quindi siete curiosi di sentire com'è che suona la qualità degli audio fatti nel camper è tra virgolette molto migliore della qualità che facevo prima infinitamente migliore e sono proprio super entusiasta super entusiasta super mega ultra perché io credevo di fare una stronzata fare uno studio in un camper invece l'audio è bellissimo basta ovviamente parcheggiare lontano da situazioni di tanto traffico e tanto rumore ma è un audio fantastico e meraviglioso detto questo seguitemi su questo canale se volete ascoltare gli audiolibri seguitemi su Instagram se volete aggiornamenti sulla vita in camper e su quello che riguarda il mio lavoro e anche i piccoli doppiaggi per esempio con Cartonacci che è una persona un grande animatore col quale faccio delle collaborazioni su Instagram e cercatemi su Telegram se volete altri prodotti che offro soltanto mi si è scaricato il supporto comunque dicevo cercatemi su Telegram ovviamente se volete sapere qualcosa di più anche riguardo le letture che offro solamente lì e niente ragazzi mi raccomando seguitemi iscrivetevi al mio canale guardate i miei video mettete mi piace commentate tutte le cosine che si fanno di solito ciao a tutti signori un abbraccio vi voglio un bene infinito grazie soprattutto agli abbonati e ai Patreon che mi sostengono tutti i giorni e sostengono il mio viaggio la mia carriera e la mia vita ciao a tutti un bacione grazie a tutti